Il progetto di Messina Il progetto di Messina Il progetto di Messina E per la quale ho sempre lavorato, mi sono sempre impegnato. Ho avuto la fortuna di fare il lavoro che mi piaceva, quello che io auguro a tutti i giovani che oggi cercano lavoro, a tutti i giovani che oggi vogliono iniziare una loro professione. Dico loro non accontentatevi di quello che vi capita perché spesso sento dire i giovani e io con i giovani ho vissuto per oltre 48 anni con molta chiarezza e mi dispiace sentirmi dire il più delle volte vedrò di trovare un lavoro. Non si cerca un lavoro, si cerca il lavoro e ci si impegna perché si possa realmente svolgere il lavoro che si vuol fare. Facciamo un escluso sui questi anni. Primo pensiero quando nel marzo del 2022 ti sei seduto su questa poltrona e poggiato le tue braccia e le tue mani su questa scrivania. Te lo ricordi? Allora devo essere molto sincero. Io sono stato nominato il 28 di marzo del 2022. Il 28 marzo alle 2 del pomeriggio alle 14 ho fatto un collegio straordinario perché ho salutato i miei professori del Majorana. Con un magone che voi nemmeno potete immaginare. L'indomani sono venuto qui in ufficio con un entusiasmo immenso. Un entusiasmo determinato essenzialmente dal volere io in qualche maniera ristrutturare, riorganizzare e soprattutto valorizzare un ufficio scolastico provinciale che in realtà a Messina probabilmente anche nulla per carità contro i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno svolto un lavoro amministrativo straordinario. Però si è trattato sempre di colleghi che dovevano condividere con un altro ufficio la loro presenza. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare direttamente su questo ufficio. Non so se ho fatto bene. Dico soltanto che l'ho fatto con tanto entusiasmo e con molto impegno. Mi vorrebbe di farti una domanda ma la lascio per la fine. Cosa succederà domani? Non a Stello Vadalà ma all'ufficio quali prospettive ci sono? Ma andiamo a noi. Ecco il primo punto è proprio questo. I colleghi dell'ufficio. C'è un'atmosfera molto strana oggi. Devo dire la verità. Sono tutti intorno a te. Adesso non ce ne sono ma fra poco lo saranno. Però c'è un po' di tristezza. Anche per il rapporto umano che sei riuscito a creare a prescindere naturalmente da quelle che sono le dinamiche professionali. Allora io non vorrei parlare di tristezza quest'oggi. Non vorrei parlare di tristezza perché qualunque parentesi che si chiuda in qualunque maniera apre una nuova parentesi. Quindi sarà certamente una nuova parentesi per l'ufficio. Sarà una nuova parentesi per quanto mi riguarda. Come mi ha detto ieri una collega si tratta di scrivere ancora su quelle pagine bianche del libro che è la nostra vita. Certo ho instaurato un rapporto straordinariamente bello con questo ufficio. Ho lavorato molto bene con tutti i colleghi e ho potuto notare soprattutto, vi prego, questo lasciatemelo dire, l'alta professionalità che c'è da parte di tutti i funzionari e di tutti gli assistenti che hanno lavorato qui in ufficio. Ho visto un'abnegazione da parte di tutti i colleghi veramente, veramente di grande, grande spessore. Soprattutto nel momento in cui abbiamo sempre rispettato le date perché ci siamo sempre messi nei panni di coloro i quali aspettavano le nostre risposte. In questi anni abbiamo sempre dato risposte, abbiamo sempre risposto al telefono, abbiamo sempre dato spiegazioni, abbiamo sempre tenuto le porte aperte. Dico anche che grazie a questo abbiamo di gran lunga dimezzato i nostri contenziosi perché chiunque venisse qui ha potuto individuare in noi la piena e assoluta trasparenza del nostro agire. Il che non è per niente poco. Faccio mia una tua frase, che è un tuo modo sui vivendi praticamente, instaurare rapporti. Instaurare rapporti con l'ufficio, col personale, instaurare rapporti con la scuola. E allora cominciamo. Intanto i tuoi colleghi, i presidi. Allora, con i miei colleghi, non appena io mi sono insediato, ho fatto subito una conferenza dei servizi perché volevo dire ai miei colleghi che chiunque da solo non poteva fare nulla, non può fare nulla. E allora ho pregato tutti i miei colleghi di riuscire a lavorare insieme. E sai una cosa? Ci siamo benissimo riusciti. Io quotidianamente ho avuto rapporti telefonici o di presenza direttamente con i colleghi di tutte le scuole. E dico anche che ho pregato i colleghi dell'ufficio di ben considerare che noi non eravamo l'ufficio superiore che abbiamo sempre considerato. Noi eravamo un ufficio di supporto alle scuole. Il lavorare insieme credo che abbia fatto pecco di presunzione in questi anni del mio incarico il bene della scuola. Abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato insieme. Lavorare insieme significa certamente riuscire meglio. Docenti e non docenti? Allora, dico subito, l'ho detto più volte, la scuola peloritana, la scuola di tutta la nostra provincia è in perfetta salute perché abbiamo docenti di spessore, abbiamo personaleata di spessore, abbiamo personale giovane che ha intenzione di realmente rinnovare la scuola, che ha intenzione realmente di portare avanti un discorso di innovazione che deve essere una innovazione che vada di pari passo con quella che è l'evoluzione della società. Finalmente credo che questo si sia ben compreso. Abbiamo ancora tanti precari, però so che c'è una ferma volontà da parte del Ministero di risolvere il problema del precariato. Tanto è stato fatto, altrettanto certamente sarà fatto in futuro. Sono assolutamente fiducioso e dico ai colleghi di avere tanta fiducia e di perseguire in quello che è il loro obiettivo e in quello che è il loro impegno. A tale proposito, una delle finalità più importanti del tuo mandato è stata proprio questo. Parlo di docenti e non solo. Il primo settembre tutti in aula. Quindi significa fare tutti quegli adempiamenti estivi, chiamiamoli così, che partono dai trasferimenti, pensionamenti eccetera per arrivare a portare anche i precari il primo settembre in aula. Allora, per due anni di seguito ci siamo riusciti. Dico ancora una volta grazie al mio ufficio perché i vari settori del mio ufficio, le varie aree del mio ufficio hanno lavorato coordinandosi in maniera perfetta e sinergicamente perché tutte le operazioni potessero essere fatte nei tempi utili perché i colleghi giorno 1 avessero la nomina. Quest'anno, non certamente per colpa nostra ma perché abbiamo avuto delle direttive un po' come dire, che sono arrivate leggermente più in avanti nei tempi. Quest'anno non riusciremo giorno 1 però certamente non sarò più io il dirigente d'ambito però certamente nella prima settimana di settembre i professori saranno già tutti in aula. Comunque l'otto è parente dell'uno per certi versi. I giovani, tu già hai parlato dei giovani poco fa hai dato diciamo delle dritte ma i nostri giovani sono l'utenza sono gli strudenti a te cara anche perché hai sempre voluto mantenere il rapporto giusto con i ragazzi magari sfruttando del rapporto con la consulta che poi è l'organo che li rappresenta. Allora partiamo da un principio la scuola esiste in quanto ci sono i ragazzi e allora noi scuola dobbiamo essere il giusto supporto per i nostri ragazzi se partiamo da questo assunto comprendiamo subito che i ragazzi hanno bisogno del massimo dell'attenzione ho avuto grossi rapporti con gli studenti ho detto già qualche altra volta a qualche tuo collega ho detto che molti ragazzi venivano a trovarci anche per problemi di ordine personale noi li abbiamo sempre ricevuti abbiamo sempre preso atto di quello che ci dicevano e devo anche dire che qualche volta siamo anche riusciti positivamente ad intervenire su quelle che erano le richieste dei ragazzi dico anche che abbiamo avuto un rapporto così tanto aperto che siamo riusciti ancora prima che i ragazzi iniziassero determinate azioni a discutere con loro a parlarne a far sì che i ragazzi si rendessero conto che determinate azioni che determinati comportamenti potevano in generare altro tipo di difficoltà che non erano soltanto difficoltà per la città per la scuola ma diventavano anche una difficoltà per la città allora i ragazzi hanno partecipato perché si sono resi conto di essere parte importante della città la scuola non è un pianeta a sé fa parte di un sistema solare e quindi anche qui la cura dei rapporti diciamo con la città o comunque con le autorità che rappresentano questa città anche in questo caso non vorrei sembrare troppo troppo ottimista non vorrei sembrare colui il quale vi vede tutto rosa però devo dire che c'è stato un lavoro d'insieme straordinario il più delle volte coordinato da sua eccellenza il prefetto la dottoressa di Stani con la quale abbiamo lavorato in maniera eccezionale è un dirigente che si apre a tutta la città ma che si è aperta in maniera preponderante nei confronti della scuola e da lì anche nasce il rapporto bellissimo con molti assessori anzi con tutti gli assessori della giunta Basile con lo stesso con lo stesso sindaco che non ha non si è mai tirato indietro nei confronti dei problemi che noi scuola proponevamo e poi con la rettrice che non posso che non posso certamente scordare la professoressa Spadari alla quale mi lega un bellissimo rapporto di amicizia e che mi onora del suo del suo affetto e della e della sua stima dico abbiamo lavorato bene anche con 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 la rettrice perché credo che il non dovere i nostri ragazzi lasciare la città parta proprio dal non dovere abbandonare la nostra università che peraltro è un'università di un prestigio enorme e allora che i ragazzi e questo che abbiamo cercato di fare con Giovanna Spadari con la rettrice Giovanna Spadari abbiamo cercato di mettere insieme scuola e università perché si trattasse in realtà di un normale e naturale e prosieguo del corso del corso di studi la nostra è un'università è un'università ad ampissimo respiro un'università a 360 gradi che offre immense opportunità di studio è giusto che i nostri ragazzi per primi se ne rendano conto e sappiano loro stessi valorizzare in pratica battere il confine fra la scuola e l'università così come dovrebbe essere fra i vari momenti della scuola i vari passaggi per arrivare ai 18 anni alla maturità un confine che dico sinceramente non c'è mai stato ogni qual volta con le varie autorità che ringrazio in questo frangente e saluto quando ci sedevamo ad un tavolo con le autorità abbiamo sempre parlato in funzione dei ragazzi in funzione del momento educativo che ci lega i nostri ragazzi ma soprattutto abbiamo parlato di quello che sarebbe stato il loro futuro l'ultima domanda mi pare d'obbligo quale futuro per questo ufficio c'è già un'indicazione sul successore che mi pare debba essere comunque indicato dall'ufficio scolastico regionale l'ufficio resterà scoperto per un giorno per due per tre per un mese è una domanda che sicuramente si fanno i colleghi dell'ufficio ma anche tutta la città ovviamente guardi le dico subito che ci sarà un interpello un interpello che è stato pubblicato ieri che sarà chiuso nei primissimi giorni con la domanda degli aspiranti al posto di dirigente d'ambito che si chiuderà i primissimi giorni di settembre da quel momento in poi si nominerà una commissione che valuterà i vari curricula adesso per adesso e fino ad adesso non ci sono completamente nomi che possano circolare so che ci sono che c'è un toto provveditore in giro però vi assicuro che in questo momento si parla soltanto di aria fritta e per se lo va da là? per se lo va da là vedremo vedremo per adesso chiudo questa parentesi per riaprirne certamente una nuova una nuova parentesi che mi vedrà innanzitutto giornalista cosa che faccio da oltre 40 anni come ben sai quindi resterò al mio primissimo e vecchissimo amore e poi vedremo certo non mi sento ancora di comprare un paio di pantofole nuove però devi fare il nonno farò certamente anche il nonno il mio il mio nipotino Emanuele con il quale sono stato fino fino ad Avantieri e che certamente mi potrò in questo in questa nuova veste potrò godermi di più non c'è dubbio allora intanto ti ringrazio per questa disamina di questi due anni e mezzo e non solo ti lascio il microfono fai tu per l'ultimo pensierino magari un pensierino alla scuola a chi puoi tu? allora il mio ultimo pensiero è credo possa essere nucleato in un semplice in una semplice parola dico soltanto grazie grazie per quella che è stata la mia carriera una carriera che qualcuno dice il lavoro è stato molto pesante sì è vero abbiamo avuto dei momenti certamente di pesantezza però ho fatto il lavoro che mi piaceva lo ripeto lo ribadisco e addirittura mi sento di non avere mai lavorato la parola è grazie grazie perché ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto lo so sembra una banalità ma è cosa è cosa verissima che ha sopportato i miei momenti magari di nervosismo i miei momenti di particolare di particolare lavoro ringrazio i miei colleghi delle varie scuole con i quali ho lavorato e ho lavorato sempre bene mantenendo ancora oggi ottimi e grandi rapporti ringrazio quest'ufficio che mi ha saputo bene accogliere e che ha saputo in tutte le maniere assecondare quelle che sono state le mie iniziative anche di riorganizzazione interna dell'ufficio grazie 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 Autore dei sovrapposti